Quarta Sagra dalla Bazzoffia ai Colli di Suso a Sezze, da mercoledì 22 a domenica 26 luglio. Ogni sera si balla con le migliori orchestre e spettacoli vari, per stare insieme in allegria, balli di gruppi, posti a sedere al coperto ed un ampio parcheggio. La compagnia vi aspetta ai Colli di Suso a Sezze, da mercoledì 22 luglio alla Quarta Sagra della Bazzoffia. La compagnia vi aspetta ai Colli di Suso a Sezze, da mercoledì 22 luglio alla Quarta Sagra della Bazzoffia.